guarda madonna mia ciao ciao oggi è mio compleanno compleanno? si dove siamo? al toys dai muoti ce li regalo vai ma che cos'è quel colgo? dai che cos'è quello? ce l'abbiamo a casa? poi c'è il gatto che parla guarda c'è anche la baccaetta questa è dedicata a te gira un po' siete mai stati al toys vuoi? mai? io voglio la bicicletta e la bicicletta denis andiamo a vedere le altre cose ma sei mai stato al toys tu? lego lego sei mai stato al toys tu? dai muoviti tu piangi? il? alza la voce non ti sento il gira brilla gira e non brillare vieni eh? cosa aurora? cosa hai visto? ma il compleanno di denis però eh ogni volta qua guarda il compleanno di uno e il compleanno di tutti dai scegli un gioco denis scegli qualcosa di bello che non costa tanto io voglio la bicicletta cosa vuoi tu? la bicicletta e la bicicletta c'è la cosa deve fare la bicicletta eh? c'è la cosa deve fare la bicicletta dite? dai la bicicletta ma tu sei contento che il tuo compleanno? si che ieri hai fatto un casino a mezzanotte? eh? oggi a scuola hai detto i tuoi compagni? si cosa le hai detto? eh oggi nel compleanno oh ma che bello sei con gli occhiali questo è cos'è? un pallone ma che pallone andiamo dai un pallone gira bene guarda bene dai fai con calma però muoviti papà devi andare a lavorare fai con calma eh eh denis forse è meglio che ce ne andiamo di qua voglio la bicicletta perché questo è il mio reparto io amo i lego voglio la bicicletta non è ancora estate quest'estate te la compi? voglio la bicicletta ah ho visto quel video che tu rubavi un po' di lego hai visto il video che io rubavo un po' di lego? si ah con chip salutate chip ciao chipetta ciao chipetta ma chi stai fai scendo? invece cacchiano dai scendi non si può che ci cacciano eh guarda quell'altro Aurora la bicicletta a fine scuola se vieni promossa e farà bravo ti compro la bicicletta andiamo te lo prometto prometto eh? voglio andare in macchina non si può andate scendi dai uomo pattino poi? uomo pattino uomo pattino vai uomo pattino uomo pattino ce l'hai già a casa? non ce l'ho ce l'hai già a casa in cantina? eh in cantina è a casa o cantina che cambia ce l'hai già ora te ne compro un altro che ce l'hai già ma che Nathan quello cammina meglio di te Nathan andiamo andiamo che cos'hai detto? voglio questo cosa hai detto? cosa vuoi tu? mamma? mamma che vuoi? papà per questi i pattini? sì ma se l'hai già su tutti i piedi i pattini corri sempre sono quelli vai cammina cammina pattini mi state rimbambendo andiamo ma io la bicicletta a fine scuola se vieni promossa allora tu hai l'asilo no poi te la compro dai andiamo guarda guarda ti vuoi vestire da fata? i vestiti eh? non strapparlo però i vestiti dai io in Galtois a comprare i trinchetti dai che reparto caramelle? vieni qua che stai guardando? questo non è queste sono le cose che piacciono a te guarda amore questo cosa costa 70 euro è mio i soldi però sono miei vabbè vediamo metti a posto amore volevo la bicicletta cos'è il tuo reparto questo? sono sempre i girabrilla i girabrilla ti piacciono i girabrilla? sì questo è il tuo reparto vai scegli tanto i compiorni di Dennis ogni volta di tutti cosa? volevo una bicicletta una bicicletta e questo è il titolo voglio una bicicletta amore finire scuola te la compro ce l'hai già in monopattino? eh? ne vuoi due? no no oh questa vuole la bicicletta sì è bello quello guarda che cadi posso provare una bicicletta? eh lo voglio provare ma cadi vieni qua oh dai e c'è a posto amore gira come è che io? Dennis si rompono gira vieni di qua Aurora dai Aurora cosa vuoi che mi hai chiamato? questo perché colora anche i capelli cosa fa? non ti sento amore alza la voce non ti sento voglio voglio questo qui perché colora anche i capelli alza la terra però è questa sì è uno o l'altro no senza lei scegli uno dei due dai scegli in italiano? eh? dai ti piace quello? sì andiamo anche questo sì tutti andiamo che figata però andiamo dai dai hai visto quanti? oh piano piano ti ha beccato piano piano basta metti via no voglio giocare ancora un po' basta voi abusate fate bugabusing e devi rompere le cose guardalo guardalo dai metti a posto il coltello il coltello è quello per tagliare il salame dai metti a posto cos'è? ma tu che ti hai scelto? hai scelto sei l'unica che hai scelto quella lì ormai vuole guardala sembra un'anima in pena che vuole la bicicletta voglio questa è quello tutto vuoi tu andiamo è quello cosa amore? la maschera la maschera cercate di non spaccare tutto il negozio però vediamo non è grande la maschera è di spy spy man grazie vengo ehi tu ehi tu che vuoi? niente? scudo dagli occhiali a mamma dai gli occhiali alla mamma che li rompi c'è la scudo dai sei più bello con la maschera lo sai? sì dai andiamo andiamo ehi tu con le mani in tasca che c'è? che c'è? aurora quella a fine scuola cosa sono quelli? guarda quelli grandi sopra guarda che belli quelli che belli però ti giro così qua a noi si alzano ti piacciono? sì a me cos'è quello? la mano verde occhio alla mano un gioco in scatola sì e questo video lo fa come si chiama? lion e anna chi l'ha fatto? lion e anna ah li conosci? sì non ha capito? questo che fa palestra e deve atterrare in piedi e chi l'ha fatto quello? tutti tu conosciuti di youtuber tutti li conosci e io li guardo casinista che c'è? leo toys ti guardi leo toys anche dai andiamo cerchiamo altro vieni io so anche questo gioco che fai? come è quel gioco? tu sei la mia recensitrice recensitrice qua dentro devi mettere l'ingrediente e qualcuno e qualcuno deve rischiarle e qualcuno si gira e che si becca l'uomo sbagliato perde? ecco qua dimmi tu vieni vieni cos'hai visto? andiamo ora corri corri non così forte e vabbè ciao è più grande di casa nostra sta cosa Aurora ma certo che tu hai proprio i gusti biciclette case giganti prima aveva la macchina elettronica un altro gioco è il rumore del gabinetto ma dai ciao amore che fai là dentro? andiamo a cercare un gioco? eh? tu che hai scelto? ma quello di Nadia? dai cos'hai combinato Nadia? hai fatto il tosto? il tosto sto facendo il panino che cos'è? guarda questa cassa l'accendi come una cassa normale quindi da qui fai i conti papà papà qua ti dà la roba che hai comprato e qua ti scorre il carrello della spesa devo frullare qualcosa? è bellissimo hai visto la cassa? ma hai visto la cassa? dove è Aurora? eh quella ha scelto la palla Aurora che fai Laura sola che canti e balli? il ciccio bello i ciccio bello ci sono qua cosa amore? il leone che dorme il leone che dorme? ma questa è la tigre non è un leone guardate la vasca da bagno la vasca da bagno Dennis tu fai solo casino non vuoi la finisci basta casinista vai via ti cacciano vai via guarda sei fuori no no ma vuoi quello Aurora? si chiudono vuoi quello Aurora? hai scelto quello? madonna qualcosa ha scelto quando non trovi chiudi gli occhi quando avanzi apri gli occhi bellissimo porta chiave vuoi porta chiave quanto costa? quanto vuoi vedere? voglio tenere questo ciclo ci sono un sacco di cose dai prendilo dai prendilo quello che vuoi dai sì vabbè basta così gira brilli bellissimo bellissimo ha le stesse cose no non si può non si può non si può salire dopo andiamo al parco io te l'ho a cercarti dove eri? nel risotto veloce Dennis finiscila Dennis non ridere che sto registrandolo quando chiudo la registrazione ti lego dai dai andiamo a casa? che a casa? che hai scelto allora per andare al compleanno? il pallone vuoi la fidanzata Dennis guarda è alta come te guarda no vieni qua è alta come te vai vicino vai vicino no oh che fai? la vuoi come fidanzata Dennis ecco qua ha trovato il gioco aspetta che l'ho spento l'ho spento così benvenuti nel mondo del mondo F A A B G C'è quello? H I G Vabbè adesso lo rompi però li prende aspetta aspetta sono uguali no quello è grande quello è piccolo però si sempre la tigre c'è c'è la scuola di Peppa guarda la scuola ecco è quella storia di Peppa papà papà parla chi parla palla oddio si sto parlando si e poi c'è una bacchetta magica perché questo ce l'aveva Nikita ricordo e e e qua c'è una bacchetta magica se gli fai se gli dissi qualcosa fai allora gli dici catto gatto se vuoi parlare parla fai a questo no no amore che voglio quello che costa troppo costa troppo sembra vero sei spaventata? si puoi vedere? sembra vero però metti a posto però oh 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 Dennis finiscila no 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 metti a posto metti a posto metti a posto dai dai che andiamo piano che fai male Dennis sembra una bella andiamo di là sembra una bella sei panino e voglio che fai il pinguino ma c'è il pinguino che cos'è? guarda il pinguino ah stai diventando il pinguino non l'ho capito dai andiamo stai buttando un pinguino mi apri? no dopo mi sono buttato per te perché mi sono spaventata per questo stappente guarda dietro dai andiamo cosa c'hai a mano tu? le caramelle dai andiamo andiamo prendi il sacchetto andiamo prendi il sacchettino vai insieme mi apri mi apri guarda che babba guarda che babbi guarda guarda è casinisti guarda madonna mia Danny sei il capo casinista sei aspetta fuori il piano oh c'ho le macchine fuori fermi come non detto fermo 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 mi apri? eh? mi apri? no no grazie adesso tu lo apri aspetta Dennis alla fine cosa hai comprato per il compleanno? il pallone cioè io ti porto al toys e tu cosa ti compri? il pallone il pallone sei serio? eh non vuoi nient'altro non vuoi nient'altro no sicuro? sì piano con quella caramella dai fatevi vedere cosa avete comprato la palla poi Nadia quello lì aspetta fatevi vedere cosa hai comprato qua ecco alla fine tu sei preso sto coso che ce l'hai già uguale ce l'avevi tieni in mano a terra si sporca Aurora ha preso la tigre che dorme abbiamo preso i piatti le cose per te Dennis che è il suo compleanno e questo Annathan dov'è? è qua vieni qua tu guarda dai hai visto che fa rumori? fai ciao 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 a tutti ciao ma c'era anche questo ma che bello eh ti eri dimenticata di quello Dennis ragazzi mi trovate un bambino che non vuole niente ce l'ho portato fino al toys non vuole niente scegli una cosa per il compleanno si cosa? eh pallone ma l'hai già preso il pallone ma che madonna mia dai ciao a tutti ciao a tutti dimmi amore la Gianna a Dennis voleva fare il buco per l'orecchino ah vuole l'orecchino si ah è brutto l'orecchino vuole fare il buco no è brutto l'orecchino ciao me ne vado ciao ciao eh ciao ciao io me ne vado ciao 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 prossimo video ciao 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 Grazie per la visione!